Chiumi di parole tra noi Ma quanto ti amo io a te Dipende che ti serve? Ah sì? Sto a scherzare mamma mia un po' di humor Eh certo Allora visto che sabato è il tuo compleanno Sì E in questo periodo mi hai aiutato a casa Brava Ho seguiti i lavori nella scuola di danza Esatto Ed è stato un periodo molto stressante e pieno di problemi Oh ho rimpianto i giorni prima della maturità Per il tuo compleanno ho deciso di ringraziarti Amore ma non devi Non devo? Che c'entra quello se dice così per cortesia non devi Ah ecco Devi devi Aos e devi Per questo potrai scegliere tra iPad Pro Abbonamento playstation plus o computer nuovo Ma che amore io mi sono superata Percorso spa per 2 con massaggio anticellulite Ah massaggio Ma io ce l'ho a cellulite Un buono di 200 euro dal parrucchiere quello nuovo che hai aperto sotto casa Ma quello non è un salone solo per donne scusa Oppure l'aspirapolvere nuovo quello che ti piace tanto L'aspirapolvere? Scusa ma posso capire una cosa? Dimmi Una cosa stupida che magari mi sfugge Ma al compleanno di chi è? È tuo E perché se al compleanno è mio i regali sono tutti per te? Per noi amore ormai siamo sposati E quello che è tuo è mio e quello che è mio L'ho comunque comprato io Sono regali per noi amore Sì ma tu al compleanno è tuo l'altra settimana hai voluto una borsa E infatti la metto quando esco con te Alla fine è come se fosse nostra capito? Quindi volendo la posso prendere pure io per uscirci Beh ma se vuoi sì Ma dai amore scherzate No è una questione del principio È nostra la borsa Allora oggi ce la scu'io Ma ti sta male? Ma è una sta benissimo E tu ti invidia Poi è verde verde Sutton sutton Dai amore No è mia E tu ti invidia